Sapete cos'è il multiverso? Sicuramente sì, se almeno seguite un po' al cinema, in mass media, la cultura pop. Si parla molto di questo multiverso perché la Marvel nei suoi film ha iniziato a inserirlo dentro a varie pellicole, ma in realtà se ne parla da molto tempo, magari non lo si chiama multiverso, lo si chiamano universi paralleli o altri nomi di questo tipo ed è un topos della fantascienza degli ultimi decenni. Eppure questo argomento che è appunto fantascientifico, di cultura pop legato ai film e fumetti eccetera ha un retroterra filosofico interessante o almeno ci permette di spiegare alcuni elementi importanti della storia della filosofia con anche degli esempi tratti dai film, della vita di tutti i giorni, esempi che i ragazzi conoscono. Allora oggi tenteremo di parlare del multiverso o degli universi paralleli per spiegare un po' di filosofia. affronteremo due temi principalmente, quello della contingenza del mondo e quello del libero arbitrio. Andiamo a cominciare. Un socio di caffè nella solita tazza con la scritta andiamo a cominciare che ci fa sempre compagnia. Come ci sono i miei compagni d'avventura, cioè Topolino, Tostoi, Batman, De Andrè e là in fondo il mostro peloso. Io mi chiamo Ermano Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia, insegno nel liceo scientifico Paleocapa di Ruigo e da un paio d'anni abbondanti su questo canale realizzo delle video spiegazioni che seguono il programma di storia, di filosofia, di educazione civica e per ogni tanto si lanciano anche in qualche approfondimento, in qualche argomento collaterale che può essere interessante approfondire. Quindi vanno bene queste lezioni, spero, per chi studia, per chi fa l'università, per chi addirittura prepara concorsi ma anche per chi è semplicemente curioso o vuole capire perché mai vale la pena ancora oggi di studiare la storia e la filosofia e oggi tento di spiegarvelo sfruttando un argomento popolare. In effetti è sbagliatissima secondo me l'idea che la storia e la filosofia siano argomenti per pochi specialisti iper appassionati, iperdotti eccetera. O meglio, è chiaro che servono anche questi specialisti che spesso portano avanti la ricerca in ambiti molto complessi della storia e della filosofia, però poi bisogna anche che questa storia e filosofia entri nella vita quotidiana se ci si riesce ad un livello alto, ad un livello anche di un certo tipo, non certo banalizzandolo voglio dire, però bisogna anche riuscire a portarla nella vita delle persone perché se rimane un argomento di cui si occupa all'1% della popolazione, allora la storia e la filosofia perdono sostanzialmente di significato la storia e la filosofia servono per capire il mondo, per cambiarlo, per interpretarlo e per vivere nel mondo allora devono arrivare, penso, alla maggior parte possibile delle persone senza per questo essere svilite bisogna trovare un buon compromesso tra divulgazione e semplificazione però appunto a volte ci sono dei film che trattano di tutte altre cose, film d'avventura, film così appassionanti ma anche mainstream come si usa dire, che ci permettono, se li sappiamo leggere e interpretare, di parlare anche un po' di filosofia e allora io vorrei fare questo oggi, parlarvi del multiverso, per come è stato affrontato in alcuni film molto recenti senza fare spoiler e in opere di fantascienza per parlarvi però di filosofia, per portarvi nel mio campo e nel mio settore l'ho tento di fare spesso con i miei studenti questa operazione di partire da qualcosa che loro vedono per diletto per sfizio, per passione e da lì però portarli verso i miei lidi penso che sia una buona pratica, questo vale per la storia della filosofia ma vale per ogni argomento culturale si può sfruttare il mondo anche quello dell'intrattenimento, in certi casi, qua hanno un intrattenimento fatto almeno discretamente per poi avvicinarsi a temi più alti, più complessi, più difficili proviamo a farlo con questo multiverso, intanto cos'è il multiverso se non l'avete mai sentito nominare o se avete le idee un po' vaghe allora, la parola multiverso possiamo usarla come sinonimo dell'espressione universi paralleli che si usa altrettanto frequentemente nella fantascienza è un termine, sono due termini che si usano nell'ambito della narrativa di fantascienza il multiverso è stato molto popolarizzato negli ultimi anni dal fatto che la Marvel casa editrice di fumetti che da qualche anno si è buttata pesantemente sul cinema ha introdotto questo concetto del multiverso all'interno dei suoi film in maniera sempre più cospicua per questioni narrative che poi magari citeremo velocemente e l'ha quindi reso molto popolare se fino a dieci anni fa gente che sentiva parlare di multiverso o che sentiva parlare di universi paralleli ce n'era poca perché erano gli appassionati di fantascienza che sono nell'ambito degli appassionati di narrativa una minoranza oggi il concetto del multiverso è estremamente popolare se io entro in classe e dico sapete cos'è il multiverso qualsiasi classe delle superiori lo sa benissimo all'80-90% sanno cos'è il multiverso se ci entravo dieci anni fa e chiedevo sapete cosa sono gli universi paralleli magari era un 20% che se la cavava 30 anni fa magari un 5% chi lo sa quindi capite è un tema estremamente popolare che ci permette di trovare un aggancio tra l'altro un tema che è sì fantascientifico ma che ha anche una base scientifica come la fantascienza spesso fa il bello della fantascienza è questo che parte da elementi reali magari o teorie reali della scienza poi magari le porta fino alle estreme conseguenze va un po' oltre e ci permette però di riflettere su dove la scienza ci sta portando o dove l'uomo sta andando in qualche misura ecco anche la teoria del multiverso degli universi paralleli in realtà ha una base scientifica viene formulata per la prima volta negli anni 50 del 900 quindi non troppo tempo fa da un certo Hugh Everett III un fisico americano che lavorando sulla meccanica quantistica elaborò una teoria una possibilità insomma teorica dell'esistenza di vari mondi paralleli questa eventualità teorica dell'esistenza di vari mondi paralleli poi è stata ripresa da altre teorie anche la teoria delle stringhe in qualche misura qualcuno l'ha portata verso questa direzione anche la teoria delle bolle insomma ci sono varie teorie fisiche che sembrano in certi frangenti tirare in ballo questa eventualità che però è una pura eventualità nel senso che la comunità scientifica non ritiene per il momento veramente plausibile questa teoria è una teoria davvero a limite tra scienza e fantascienza è una teoria che anzi molti scienziati ritengono pseudoscientifica va detto però però parte parte da una serie di modelli che prendono spunto da teorie invece abbastanza condivise appunto la teoria della meccanica quantistica ormai è nota e arcinota l'abbiamo parlato anche noi vi metto un link in descrizione la teoria delle stringhe più recente ma insomma diciamo che parte da qualcosa di scientifico e poi magari si lancia un pochino oltre cosa dice questa teoria del multiverso in maniera molto semplice più concreta che fisica dice che c'è la possibilità che esistano tutta una serie di universi paralleli cioè mondi in tutto simili al nostro o in quasi tutto simili al nostro ma con alcune piccole differenze quindi ci sarebbero vari pianeta pianeta terra varie versioni del pianeta terra varie versioni del sole varie versioni della nostra galassia simili alla nostra ma non identiche non uguali questo tema è stato ripreso molte volte nella fantascienza ad esempio pensate alle ucronie cosa sono le ucronie sono quei racconti in cui ci si chiede cosa sarebbe successo se le cose non fossero andate come sono andate esempio ed è un romanzo molto famoso ucronico cosa sarebbe successo se i nazisti avessero vinto la seconda guerra mondiale cioè è un racconto un romanzo questa è la svastica sul sole di Philip K. Dick ma c'è anche Fatherland di Robert Harris che ha lo stesso spunto iniziale in cui un romanziere si chiede cosa sarebbe successo se a un certo punto la storia non fosse andata nella direzione in cui è andata ma avesse levemente deragliato magari per un piccolo particolare o per un particolare più ampio avesse preso avesse preso una strada diversa cosa sarebbe accaduto e poi diventa divertente immaginare un mondo in cui Hitler è ancora vivo in cui i nazisti hanno sconfitto le potenze europee in cui si sono spartiti il mondo con i giapponesi eccetera 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 la svastica sul sole è stata portata anche in una serie tv di recente L'uomo nell'alto castello eccetera quindi siete curiosi ce ne sono di romanzi e serie tv da leggere e vedere molto intriganti da questo punto di vista poi sono giochi chiaramente pseudo storici però insomma può essere anche divertente giocare ogni tanto e provare a immaginare cosa sarebbe successo se ecco la teoria del multiverso dice sostiene che non solo c'è il nostro universo ma ce n'è sicuramente anche un altro in cui magari i nazisti hanno vinto oppure ce n'è un altro in cui io non mi chiamo Ermanno ma mi chiamo Giovanni perché i miei genitori in quest'altro universo parallelo hanno deciso di chiamarmi in modo diverso oppure ce n'è un altro ancora in cui che ne so il terremoto di Lisbona del Settecento ha completamente da suo suolo Lisbona e quindi c'è un Portogallo senza Lisbona e ce n'è un altro magari in cui gli americani non hanno usato la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki eccetera eccetera tantissimi universi paralleli molto simili tra loro molto simili ma che differiscono per alcuni piccoli particolari piccoli poi relativamente piccoli perché il fatto che abbiamo vinto i nazisti in una guerra non è poca roba piccoli nella storia dell'umanità perché in migliaia e migliaia di anni è un evento anche piccolo tutto sommato ecco questo è un è la teoria una teoria che è stata usata molto spesso dalla fantascienza appunto per creare ucronie oppure dai fumetti e dai film per creare variazioni sul tema cioè esempio primo esempio che è quello che è stato utilizzato anche di recenti una serie che la marvel ha lanciato su disney plus che però è tratta di una serie a fumetti di ormai vari anni fa che leggevo quando ero un ragazzino che si chiama what if what if vuol dire che cosa se in inglese è un'espressione che si usa per dire cosa sarebbe successo se se le cose fossero andate diversamente allora la serie animata what if che è anche simpatica carina è molto per appassionati ne ho parlato nella newsletter della settimana scorsa in descrizione trovate il link per iscrivervi alla newsletter se vi interessa cosa fa la serie what if prende le storie della marvel degli eroi la continuity classica cioè la storia come è stata raccontata nei vari mensili riviste eccetera e appunto immagina un cambiamento cioè dice cosa sarebbe successo se capitano america invece di essere steve rogers un uomo fosse una donna o cosa sarebbe successo se che ne so iron man fosse stato ucciso cosa sarebbe successo se gli eroi rischiano spesso di venire uccisi di non diventare quello che diventano eccetera e allora immagina questa serie un mondo parallelo in cui le cose non sono andate come noi ci aspettiamo ecco questo permette tutta una serie di giochi narrativi interessanti no pensate al mondo dei supereroi ad esempio appunto che adesso lo sta usando ampiamente è un mondo dove abbiamo dei personaggi appunto i supereroi che rischiano continuamente la vita e che a volte pare un po' assurro che si salvino sempre no combattono con potenze intergalattiche combattono con nemici potentissimi e se la cavano sempre è assurro che un eroe riesca sempre ad averla meglio in ogni circostanza e allora cosa succede di tanto nei fumetti anche per fare un boom di vendite e richiamare l'attenzione del pubblico succede che magari pensano hanno la pensata di far morire l'eroe facciamo morire batman o facciamolo diventare storpio oppure facciamo morire spiderman oppure cambiamogli il cervello sono cose sono cose che sono successe facciamo morire questo eroe facciamo morire superman perfino a un certo punto è morto ebbene quando si fanno queste mosse certo si attiva grande attenzione mediatica le copie del fumetto vendono un sacco però poi ti trovi con l'eroe che è morto e a un certo punto devi farlo risuscitare perché l'eroe deve vendere il pubblico vuole quell'eroe e allora devi trovare un modo per farlo risorgere a volte lo fai risorgere in modi particolari è stato un sogno arriva lo scienziato che rimette a posto le cose interviene Dio chi per esso eccetera altre volte te la cavi con la teoria degli universi paralleli ok il supereroe è morto in questo universo ma è ancora vivo in tanti altri universi quindi spostiamo l'attenzione all'altro universo oppure facciamo arrivare l'eroe dell'altro universo nel nostro universo così l'eroe non è più morto è risuscitato in un certo senso non è veramente risuscitato ma abbiamo di nuovo il personaggio in calza maglia che scorrazza tra i palazzi di New York o di metropoli di Gotham City capite? è un modo per risolvere dei problemi di trama di solito quando tu ingarbugli la trama e poi non sei più come uscirne uscirne salvando la faccia cosa fai? un bello universo parallelo e ti rimballo tutto così purtroppo o per fortuna i fumetti americani hanno proliferato per molti anni creando a volte davvero un ingarbugliamento incredibile la DC Comics non la Marvel la sua rivale quella che fa DC Comics quella che fa pubblica Superman Batman Flash Wonder Woman eccetera negli anni 80 quindi ormai 40 anni fa divenne famosissima per aver creato una infinità di mondi paralleli tant'è vero che a un certo punto la casa editrice decise di fare un repulisti cioè troppo casino ormai c'erano talmente tante terre parallele che non sapeva più come uscirne crearono una serie chiamata Crisi nelle terre infinite dove praticamente rialzerarono tutto cancellarono tutto questo ingarbugliamento di continuiti e ricominciarono da zero fu una serie che vendette un sacco in effetti proprio la DC Comics fu la prima casa editrice responsabile di aver introdotto il concetto del multiverso nei fumetti lo fece addirittura negli anni 60 con una famosa storia di Flash che si chiamava se non ricordo male il Flash dei Due Mondi dove si incontravano il Flash dell'anteguerra degli anni 30-40 col Flash degli anni 60 provenienti da due universi paralleli insomma queste storie hanno non è una storia lunga alle spalle stiamo parlando di universi paralleli nei fumetti fin dagli anni 60 però la Marvel da poco nei film ha iniziato a introdurre questo tema e ovviamente quando arriva nei film ha un grande successo vediamo brevemente quali film usano questo concetto allora vediamo questi film che ci parlano del multiverso ne citiamo velocemente senza spoiler 4 voi dite perché 4 magari se avete fatto i conti ve ne risultano 3 della Marvel che parlano effettivamente del multiverso dei mondi alternativi sì ma faccio una veloce premessa su un film più vecchio molti di noi molti di voi io per primis abbiamo per la prima volta sentito parlare di universi paralleli al cinema con un film degli anni 80 90 cioè con Ritorno al Futuro anzi serie di film famosissima al tempo di grande successo in cui questo ragazzo degli anni 80 Marty McFly torna inizialmente in detto nel tempo conosce i suoi genitori e poi ritorna al 1985 ma poi nei capitoli successivi inizia a viaggiare avanti e indietro fa un po' la spola se vi ricordate in particolare nel secondo episodio Ritorno al Futuro 2 crea un disastro perché va avanti nel futuro compra un almanacco sportivo con l'idea di fare i soldi perché tornerai dentro del tempo e inizierà a scommettere ma si fa fregare da Biff l'antagonista del film che effettivamente lui torna indietro nel tempo con l'almanacco fa un sacco di soldi e crea una linea temporale alternativa che nel film viene chiamata un continuum spazio temporale alternativo e allora lì c'è tutta la storia che noi torniamo indietro nel tempo rimettiamo a posto la linea temporale eccetera ecco lì si parla per la prima volta almeno si spiega in maniera abbastanza chiara pur con qualche incertezza poi diciamo sulle linee temporali ma insomma si spiega per la prima volta con uno spiegone fatto da Doc uno dei personaggi che cosa sono le linee temporali alternative come un evento nel passato può creare una linea temporale alternativa così si sostiene e poi si può tornare indietro non tornare indietro è un disastro comunque lì per la prima volta viene introdotto il tema ma appunto in epoca più recente sono stati tre film della Marvel che hanno introdotto l'argomento tra l'altro film della Marvel fino a un certo punto perché un paio almeno coprodotti con la Sony perché il primo in assoluto che ha tirato in ballo il multiverso è stato Spider-Man un nuovo universo il film a cartoni animali tra l'altro molto bello penso uno dei più bei film della Marvel che però non è fatto dalla Marvel cioè fatto da Sony ma onestamente forse il più bello che ho visto Spider-Man un nuovo universo è quel film in cui se non l'avete visto vi dico solo proprio all'inizio c'è come Spider-Man Miles Morales un giovane ragazzo di colore che diventa Spider-Man ma arrivano in città assieme a lui gli Spider-Man di altri universi paralleli insieme combattono contro vari nemici molto bello consigliato da vedere assolutamente questo tema permetteva l'incontro di diversi Spider-Man perché effettivamente nel mondo dei fumetti non c'è un solo Spider-Man non c'è solo Peter Parker che è lo Spider-Man classico ma nel corso degli anni sono stati creati tutta una serie di altri uomini ragno simili ma non uguali in universi fumettistici paralleli e allora in questo cartone animato li si faceva incontrare e quando questo cartone ha avuto una grande fortuna un grande successo anche perché è molto bello nel raggruppare tutti questi personaggi si è detto beh allora facciamolo ancora e da lì in poi sta iniziando ad essere sempre presente questo tema perché? perché nel film successivo di Spider-Man questa volta con gli attori in carne rossa cioè Spider-Man No Way Home dell'anno scorso di nuovo Spider-Man stavolta in carne rossa con gli Spider-Man di altri universi paralleli e poi ultimo capitolo della saga uscito pochi giorni fa l'ho visto da poco e questo mi ha dato l'idea per fare questo video anche se non farò spoiler di nuovo universi paralleli multiverso stavolta in Doctor Strange in Doctor Strange e nel multiverso della follia si dice perché anche lì si viaggia di universo in universo con l'incontro di Strange con mondi di paralleli simili ma non uguali a quello da cui lui proviene che è il nostro e anche lì l'incontro con altri supereroi l'incontro con mondi deviati con super cattivi eccetera 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 poi non vi rivela il film come va a finire guardatevelo è carino non straordinario secondo me però abbastanza buono Spider-Man in un nuovo universo è molto meglio però questo è il tema il tema ci possono essere nella narrativa di fantascienza degli universi paralleli che si assomigliano o non sono uguali allora cosa ci può dire tutto questo nell'ambito della filosofia come vi dicevo nella premessa due sono i temi di cui vorrei parlare oggi anche se già sto andando un po' lungo il primo tema è quello del mondo contingente il secondo tema è quello del libero arbitrio partiamo dal mondo contingente allora immaginiamo che sia vero che esistono diversi universi paralleli diamo per vero questa teoria del multiverso e che quindi sia realtà come nei film ci viene mostrato nei film è scontato che è realtà bene facciamo finta di credere sospendiamo il giudizio e diamo ragione a chi fa questi film ebbene cosa vorrebbe dire dal punto di vista filosofico vorrebbe dire che il nostro mondo non è l'unico possibile che il nostro mondo poteva essere anche diverso da com'è immaginiamo appunto un mondo in cui i nazisti hanno vinto la guerra ebbene cosa vorrebbe dire che c'è il nostro mondo in cui i nazisti hanno perso ma che non era per nulla scontato che i nazisti avrebbero perso con circostanze diverse con situazioni diverse avrebbero potuto anche vincere e il mondo avrebbe preso una piega diversa possibilissimo altre ipotesi immaginiamo un mondo in cui Spider-Man non sia Peter Parker non sia stato Peter Parker ad essere morso da un ragno radioattivo ma sia stato un giovane ragazzo di nome Miles Morales ebbene cosa sarebbe accaduto il mondo sarebbe stato molto simile perché New York sempre New York perché gli Stati Uniti sono sempre gli Stati Uniti perché mille cose sono uguali ma c'è quel particolare non da tutto irrilevante per cui Spider-Man non è un ragazzo bianco di 16-17 anni all'inizio ma è un ragazzo di colore di 15-16 anni all'inizio con tutte le differenze del caso cosa vuol dire che il ragno non per forza avrebbe dovuto mordere Peter Parker poteva mordere chiunque altro bastava che Peter fosse quella mattina un po' in ritardo o che il ragno fosse uscito da un altro lato invece che dal lato A dal lato B e le cose sarebbero andate diversamente avete presente l'effetto farfalla che basta un piccolo dettaglio per cui si scatena una serie di conseguenze enorme di cui non si ha pieno controllo è anche questa è una teoria fisica ma nel nostro caso potrebbe generarsi un mondo parallelo simile ma non uguale ok che ne so io un giorno mi alzo prima la mattina prendo la macchina e per caso per sfortuna incapo un incidente faccio tardi al lavoro non incontro quella persona non conosco mia moglie che ne so non mi sposo non faccio i figli eccetera oppure mi sposo con qualcun altro e faccio figli diversi eccetera mondi paralleli non per forza le cose dovevano andare come sono andate potevano anche andare diversamente questo ci dice la teoria del multiverso se ci sono tanti universi paralleli simili ma non uguali significa che il mondo non era necessitato ecco questo è il tema cioè la domanda che ci dobbiamo porre è il nostro mondo è l'unico mondo possibile il nostro mondo va così perché non potrebbe andare diversamente da così oppure no ho detto in altri termini detto nei termini con cui anche Kant a un certo punto lo presenta il nostro mondo è deterministico oppure no è necessitato oppure no cioè i fatti del nostro mondo possono accadere solo in questo modo o possono accadere in più modi la teoria del multiverso ci dice no possono accadere in più modi infatti abbiamo tanti universi paralleli in cui le cose sono andate lievemente diverse da come sono andate nel mondo principale noi siamo portati a credere generalmente che effettivamente questo sia plausibile che il mondo va in un modo ma che non ci siano norme rigide per cui non potrebbe andare in modo diverso no nel senso che è vero che certi eventi del mondo sono determinati esempio se io prendo Topolino il nostro amico Topolino lo faccio cadere lui cade e in qualsiasi mondo se io faccio questa mossa lui cade qualsiasi mondo parallelo accade probabilmente questo poi in qualsiasi bisogna vedere se la gravità è la stessa se le leggi della fisica sono le stesse ma diciamo in molti mondi cade così bene però però questo è un fenomeno fisico regolato da leggi meccaniche ma ad esempio le nostre scelte sono già più estemporanee a volte no ripeto io magari devo uscire di casa alle 8 per andare a lavoro ritardo perché mi distrago perché mi perdo perché mi macchio bevendo il caffè per una qualsiasi quisquiglia perdo quei 5 minuti che poi possono generare un effetto a catena lì non è legge meccanica fisica non è un grave che cade lì sono io che sono un imbecille e mi bagno mi rovescio il caffè addosso la mattina capite può capitare come può non capitare magari una mattina capita una mattina non capita avete mai visto quel film simpatico carino che è sliding doors se l'avete mai visto film inglese vi metto in descrizione magari anche un link per recuperarlo ecco sliding doors gioco su questo fatto che magari basta attraversare non attraversare la strada oppure riuscire a prendere un ascensore o non riuscire a prenderlo e la storia va in due direzioni diverse il mondo va in due direzioni diverse ebbene questo tema è stato affrontato anche dai filosofi cioè anche i filosofi si sono chiesti se il nostro mondo è contingente o necessitato e diciamo che l'ipotesi di un mondo contingente che è quella che emerge dalle teorie dei mondi paralleli è stata spesso usata questa ipotesi dai filosofi cristiani i cristiani i filosofi cristiani sono spesso favorevoli a questa idea perché perché per i cristiani il nostro mondo deve necessariamente essere contingente ho fatto un po' un gioco di parole contingente vuol dire che non va per forza in un unico modo possibile ma può andare in più modi possibili perché questo perché per i filosofi cristiani il mondo è stato creato da Dio e Dio avrebbe potuto creare il mondo in molti modi Dio è onnipotente Dio è onnisciente e crea il mondo per un atto di libera scelta perché Dio crea il mondo per i cristiani per un atto d'amore cioè decide di creare il mondo non era obbligato a crearlo se no non sarebbe un atto di libera scelta decide di creare il mondo per un atto d'amore vuole creare il mondo e ovviamente il fatto di decidere vuol dire che poteva farlo come non farlo vuol dire anche che poteva farlo come l'ha fatto ma poteva farlo anche in maniera diversa da come l'ha fatto ha creato il mondo A ma poteva creare il mondo B il mondo C il mondo D il mondo E il mondo F eccetera a volte per far capire questo concetto quando lo spiego dico ha creato il mondo con la terra fatta in un certo modo con l'Italia che ha la formula dello stivale bene poteva creare un'Italia che nel corso della deriva dei continenti eccetera avesse una forma rettangolare perché doveva averla per forza a stivale poteva avere una forma rettangolare poteva farlo certo che poteva farlo Dio Onnipotente e poteva creare l'Italia come gli pareva c'è fatti con la pelle rosa no oppure nera oppure tenente al giallo oppure se vorrei fare discorsi razzistici però poteva farci la pelle blu come i puffi voi direste beh ma i pigmenti eccetera beh poteva anche creare i pigmenti diversi poteva creare il sole diverso poteva creare tutto diverso poteva farci tutti i blu come i puffi no poteva certo Dio Onnipotente avrebbe potuto anche farci così però ci ha fatti rosa però non era obbligato a farci rosa ci ha fatti rosa o neri o eccetera perché ha scelto ok scegliere vuol dire questo non essere obbligati avere un range di possibilità poi optare per una due tre possibilità capite ci ha fatti con due occhi poteva farci con tre occhi voi dite ma come l'uomo è frutto dell'evoluzione vabbè se noi crediamo in Dio crediamo che anche Dio in qualche misura abbia essendo onnisciente previsto l'evoluzione ebbene poteva intervenire facendo in modo che l'evoluzione ci portasse ad avere tre occhi avrebbe potuto certo ci ha fatti con due occhi evidentemente ha scelto quella opzione ok quindi il nostro non è l'unico mondo possibile ce ne sono tanti di mondi possibili questo lo dicono molti filosofi cristiani alcuni in maniera più sottintesa alcuni in maniera più esplicita ad esempio anche Tommaso d'Aquino ne parla Tommaso d'Aquino grande filosofo della scolastica proprio parla di questo parla del fatto che Dio ha voluto creare il mondo e l'ha creato con delle cause necessitanti e con delle cause contingenti cioè alcune cose ha fatto in modo che si verificassero per forza che non potessero fare a meno di verificarsi ma altre cose ha fatto in modo di lasciarcele libere e quindi si possono verificare in un modo in un altro o anche non verificare quindi Dio ha previsto tutto ha previsto anche un mondo contingente ma sicuramente il filosofo che più di tutti ha insistito su questo punto è stato Leibniz filosofo del 600-700 tedesco quindi molto più avanti nel tempo rispetto a Tommaso cosa dice Leibniz? dice che il mondo è contingente almeno dal nostro punto di vista e che Dio l'ha creato così l'ha voluto creare così c'erano infiniti mondi possibili lo dice proprio esplicitamente Leibniz Dio avrebbe potuto fare il mondo in mille modi infiniti mondi possibili ma Dio ha scelto proprio questo ne ha scelto uno tra gli infiniti mondi possibili e quale mondo? ha scelto evidentemente il mondo che meglio si sposava con la sua idea cioè Dio quando crea il mondo per i cristiani non lo fa così per sfizio non lo fa così a caso lo fa perché ha in mente un progetto perché ha in mente un obiettivo da raggiungere lasciandoci poi liberi ma comunque con un obiettivo ebbene se ha un obiettivo e se ci sono infiniti mondi possibili sceglierà tra gli infiniti mondi possibili quello che meglio realizza il suo progetto quello che porta più in là il suo obiettivo quello che fa fare la strada più giusta per l'umanità per il mondo eccetera ora questo implica secondo Leibniz che il nostro è sempre il migliore dei mondi possibili cioè c'erano tante alternative certo avrebbe potuto farci blu certo ma evidentemente se Dio non ci ha fatti blu e ci ha fatti rosa nera eccetera è stato perché il fatto di avere la pelle di questo colore permette all'umanità per motivi che magari noi non capiamo ma deve essere necessariamente così permette all'umanità di camminare meglio verso la salvezza perché Dio non fa nulla per caso Dio è onnisciente Dio sceglie e sceglie la cosa che meglio si confa al suo progetto e allora se noi abbiamo la pelle di questi colori è perché Dio ha scelto che noi avessimo la pelle di questi colori e non di altri e non blu chissà se diventavamo blu diventavamo tutti come i puffi e non ci evolvevamo magari restavamo piccoli invece evidentemente la pelle di questo colore ci ha fatto evolvere ci ha portati verso una certa direzione e ancora ci sta portando avanti se Dio ha scelto questa opzione tra le miliardi di opzioni che aveva c'è un motivo lui lo sa noi no perché noi non capiamo queste cose ma Dio le sa e quindi e quindi il nostro è il migliore tra tutti i mondi possibili perché Dio ha scelto quello che appunto meglio combaccia con i suoi piani capite quindi nell'ottica del multiverso della marvel eccetera esistono tanti altri mondi direbbi l'anis certo mondi ipotetici ma il nostro è migliore se voi poteste passare da un universo all'altro se voi poteste iniziare a viaggiare nel multiverso come accade in questi film come accade in spiderman un nuovo universo come accade in spiderman no way home come accade in totto strange nel multiverso della follia se voi iniziaste a viaggiare di mondo in mondo vi rendereste conto che il nostro mondo è il migliore perché quello che Dio ha attualizzato ha reso attuale gli altri sono tutti mondi ipotetici che per l'anis non esistono davvero sono solo pensati da Dio il nostro invece esiste davvero il multiverso della marvel invece dice no no esistono dal tono nel multiverso della marvel non si capisce perché esistono non c'è Dio non si capisce dove stia Dio e quindi la marvel dice esistono alcuni sono meglio alcuni sono peggio leibniz non sarebbe d'accordo direbbe che questi altri universi sono solo nella mente di Dio sono solo universi ipotetici comunque peggiori del nostro perché meno allineati all'obiettivo che Dio si è dato però capite questa idea che la marvel sta riprendendo sta facendo film campioni di incassi miliardi di dollari ovunque le aveva già pensate leibniz secoli fa certo non mettendoci in mezzo spiderman o doctor strange o i supereroi mettendoci in mezzo gli esseri umani semplici però ci aveva già pensato però l'aveva già previsto qualcosa del genere l'aveva detta anche Giordano Bruno a dirla tutta se vi ricordate Giordano Bruno quando aveva letto della teoria copernicana aveva anche immaginato aveva detto ma è possibile che le stelle che vedo lontane siano altri mondi altri soli meglio attorno a cui girano altri mondi e quindi che esistano altri mondi simili al nostro questa idea di altri mondi simili al nostro ha preso i filosofi per molto tempo anche Democrito aveva ipotizzato qualcosa del genere non è certo Leibniz non è solo Leibniz non è solo Tommaso sono in tanti quelli che hanno immaginato altri mondi simili ma non uguali ma la cosa interessante è questa per i filosofi cristiani questa è la prova che a il nostro mondo è contingente e b che Dio ha creato questo mondo contingente scegliendolo tra i mille che poteva creare e quindi donandocelo donandoci il migliore dei mondi contingenti possibili serve anche i filosofi cristiani per vedere la differenza tra la contingenza del nostro mondo e la necessità di Dio poi ci sono anche altre visioni c'è Spinoza che non l'aveva affatto così c'è ci sono altre filosofi che non l'aveva affatto così però però ripeto questo tema della contingenza del fatto che il nostro mondo è fatto in un modo ma poteva anche essere fatto in altro modo emerge nella storia della filosofia questo è un primo tema questo della contingenza del mondo ma secondo me ancora più interessante è il secondo tema di cui vi voglio parlare che è quello del libero arbitrio perché provate a pensare immaginiamo ancora una volta che esistano questi universi paralleli che ce ne siano tanti eccetera in cui noi siamo presenti perché vi ho detto questi universi paralleli nell'immaginario della fantascienza sono molto simili tra loro quindi ci sono tanti Armando Ferretti in ognuno di questi universi paralleli ci sono tanti Doctor Strange tanti Spider-Man eccetera 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 ognuno di voi ha il suo doppio il suo doppelganger in ogni universo parallelo ora la domanda che ci possiamo fare è questi altri me stesso che vivono in questi altri universi paralleli si comportano come me oppure no fanno le mie stesse scelte di vita oppure no hanno una vita identica alla mia perché hanno fatto le stesse identiche scelte che ho fatto io oppure no è costantemente interessante è una domanda è un quesito curioso la Marvel dice no se avete visto il film la Marvel presenta diversi che so Doctor Strange in vari universi paralleli ma non tutti si comportano esattamente allo stesso modo quindi agiscono diversamente le loro vicende sono diverse e anche poi gli esiti possono affrontare un nemico vincere perdere essere uccisi oppure no a seconda delle situazioni quindi sembra dirci la Marvel ci sono tanti universi paralleli tanti doppioni dello stesso uomo ma questo uomo in ogni universo agisce liberamente perché se nell'universo A mettiamo che ci siano tanti Armando Ferretti così non faccio spoiler sul film mettiamo che nell'universo A quello in cui io vivo quello attuale io effettivamente ho scelto di diventare un professore delle superiori eccetera e quindi adesso sono qui a registrare un video ma mettiamo che il me stesso dell'universo B abbia avuto un percorso levemente diverso ha fatto la stessa università si è laureato uguale però poi io non so se l'ho mai raccontato durante l'ultimo anno dell'università ho iniziato a lavorare come giornalista poi ho lasciato perdere ma effettivamente a un certo punto sono stato in dubbio se per seguire la carriera di insegnante o continuare a fare giornalista mettiamo che nell'universo B Ermanno Ferretti abbia scelto non di diventare insegnante ma di fare giornalista questo avrebbe implicato tutta una serie poi di decisioni successive diverse perché se avessi voluto continuare a fare giornalista avrei dovuto probabilmente spostarmi da Rovigo mi sarei trasferito la mia ragazza che attualmente è mia moglie chissà se mi avrebbe seguito oppure no e come e dove e quando chissà se avremmo avuto se ci saremmo sposati quando ci siamo sposati se avremmo avuto i figli quando li abbiamo avuti quasi sicuramente no e quindi la vita di questo Ermanno Ferretti dell'universo B sarebbe stata molto diversa a partire però da un piccolo particolare senza per forza avere un carattere diverso dal mio perché l'Ermanno Ferretti dell'universo B possiamo anche immaginarlo in tutto simile a me per carattere per modo di pensare per modo di agire eppure una lieve differenza nella scelta fatta a un certo punto della vita quando magari ero in dubbio devo scegliere tra A e B ho scelto A in questo caso e nell'altro immaginiamo di aver scelto B tante differenze no questo è possibile Ermanno Ferretti dell'universo C magari ha fatto una vita ulteriormente diversa magari è diventato professore ma per mille coincidenze non è riuscito a entrare in ruolo nel liceo scientifico dove insegna il resto nel paleocopa e insegna magari in un'altra città o in un'altra provincia e quindi deve fare più ore di viaggio quando va a lavorare e quindi non ha il tempo per fare i video e quindi non ha mai aperto un canale YouTube magari eccetera sempre lo stesso Ermanno Ferretti con lo stesso carattere magari anche stessa moglie e stessi figli ma con un lavoro conoscenze scelte di vita livellamente diverse basta un piccolo dettaglio a un certo punto della vita e la vita prende una strada radicalmente anche diversa in certi casi ok? questo è possibile allora questa è l'ipotesi se c'è il libero arbitrio se c'è davvero la libertà allora i vari Ermanno Ferretti dei vari universi paralleli finiscono per fare quasi sempre scelte diverse cos'è il libero arbitrio se non poter scegliere tra più opzioni e quindi opzione A opzione B opzione C opzione D in un universo magari ho scelto l'A in un altro ho scelto la B in un altro ancora ho scelto la C e questo in tutte le scelte importanti della mia vita e questo produce vite molto diverse anche in certi casi o in altri casi vite molto simili perché magari nelle scelte importanti ho fatto sempre la stessa scelta dell'universo A ma magari ho scelto diversamente scelte meno importanti ho scelto diversamente cosa mangiare questa sera a cena ho scelto diversamente che marca di cellulare comprarmi ma quello non avrebbe magari inciso più di tanto sulla mia vita allora questa è l'ipotesi diciamo che è quella seguita dall'universo Marvel dal multiverso della Marvel in cui i soggetti dei vari universi paralleli sono tra loro molto simili hanno lo stesso carattere lo stesso modo di pensare eccetera ma inevitabilmente fanno scelte levemente diverse e quindi intraprendono strade di vita diverse questo è il presupposto nel caso in cui ci sia il libro arbitrio ma immaginiamo che il libro arbitrio sia una illusione noi tutti siamo convinti a livello popolare di essere liberi no? di scegliere liberamente se io devo scegliere che maglietta mettermi la mattina apro l'armadio e credo di fare una scelta libera no? dico beh sono due o tre oggi ho voglia di questa me ne prendo una e me la metto prendo questa e me la metto addosso e vengo a fare il video bene libera scelta ma è davvero libera? ci sono filosofi che sostengono che noi non siamo veramente liberi che il libro arbitrio sia cioè un'illusione e che quando io apro l'armadio e guardo le tre maglie che ci sono in alto alla pila in realtà faccio una scelta legata a dei fattori che mi influenzano ma di cui non sono completamente a conoscenza dico beh prendo questa perché ho voglia di questo ho voglia di grigio ma in realtà non è una scelta casuale in realtà nel mio cervello ci sono delle stimolazioni biochimiche che mi propendono in quell'istante in quel momento sulla base del clima di quanto ho dormito eccetera mi spingono a scegliere quella maglietta lì se questo fosse vero cioè se le mie scelte fossero determinate meccanicamente dalle reazioni biochimiche nel mio cervello allora tutti gli ermanno ferretti di tutti gli universi paralleli in quella situazione il giorno sto registrando del 12 anzi 11 maggio ma è già passata mezzanotte il 12 maggio del 2022 in tutti gli universi paralleli dopo aver dormito un tot numero di ore con quel grado di umidità nell'aria con quell'orario dell'orologio aprendo l'armadio trovando quelle tre stesse magliette tutti gli ermanno ferretti di tutti gli universi paralleli avrebbero scelto quella stessa maglietta noi crediamo di scegliere liberamente ma in realtà non scegliamo davvero abbiamo è vero tre opzioni ma il nostro cervello la nostra dinamica la nostra biochimica ci spinge sempre a fare una certa scelta che è la stessa in ogni universo possibile allora se fosse vero questa ipotesi in tutti i multiversi in tutti gli universi paralleli tutti gli ermanno ferretti hanno la stessa identica vita cioè se io potessi davvero viaggiare di universo in universo e vedere come si comportano i miei doppi capirei se esiste il libero arbitrio questa è la bellezza di questa ipotesi mentale no? se io potessi viaggiare e vedere nell'universo B come si comporta il mio amano ferretti nell'universo C come si comporta e come vive il mio amano ferretti nell'universo D uguale eccetera potrei dire che vita ha questo il mio amano ferretti dell'universo K mettiamo che abbia la stessa identica vita mia che abbia fatto le stesse identiche scelte che indossi le stesse identiche magliette che faccia lo stesso identico lavoro eccetera 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 tutto uguale allora avrei la conferma che il libero arbitrio non esiste o meglio magari l'universo F potrebbe essere un caso particolare ma se vado a vedermi tanti universi il B il C il D l'E l'F G il K e vado avanti e sempre inevitabilmente l'ermano ferretti di questi universi ha tutto identico al me allora vorrebbe dire che non esiste il libero arbitrio vorrebbe dire che il libero arbitrio è un'illusione che noi siamo convinti di averlo ma in realtà non l'abbiamo noi siamo convinti di scegliere ma in realtà non scegliamo perché è una scelta obbligata senza saperlo è una scelta obbligata cioè scegliamo di fare quella certa cosa perché non possiamo fare a meno di farlo io ho scelto di diventare un insegnante e non di restare un giornalista perché credo che in quel momento io abbia optato un po' per fortuna un po' per caso per quell'opzione ma in realtà dentro di me tutti gli stimoli tutto il mio modo di ragionare tutto il mio modo di essere mi spingeva verso quella scelta e quindi in tutti gli universi paralleli ho sempre fatto quella scelta capite? è un bel tema è un bel tema che ci permette di ricollegarci alla riflessione sul libero arbitrio di molti filosofi facciamo una carrellata veloce il primo forse che penso valga la pena di citare è Epicuro vi ricordate Epicuro quando parla degli atomi gli atomi che cadono verticalmente in virtù del loro peso e che non si incontrano mai in descrizione vi metto il link se volete recuperarlo abbiamo detto quello che abbiamo spiegato è Epicuro che si fa fatica a spiegare le aggregazioni di atomi in un'ottica puramente meccanicistica cioè deterministica cioè se gli atomi si muovono per via di leggi fisiche allora non si riesce a spiegare la libertà perché se gli atomi obbediscono a leggi e tutto è fatto di atomi allora tutto obbedisce a leggi anche l'uomo obbedisce a leggi e quindi è determinato non è libero di scegliere perché obbedisce sempre a delle regole già prefissate ma Epicuro evitava questo problema introducendo se vi ricordate il clinamen che è una deviazione casuale degli atomi per cui diceva Epicuro ogni tanto qualche atomo in maniera puramente casuale per puro caso devia dal suo corso provoca aggregazioni e questa deviazione casuale spiega la libertà dell'uomo perché in un mondo puramente meccanico puramente determinato non ci sarebbe libertà dell'uomo ma visto che c'è dice Epicuro bisogna che esista una componente casuale e quindi lui spiegava così il libero arbitrio andiamo un po' più avanti e arriviamo ad Agostino e qua iniziano già i problemi perché Agostino sul tema del libero arbitrio è un po' ambiguo perché lui dice ad esempio che l'uomo dopo il peccato originale è inevitabilmente portato a peccare non può fare a meno di peccare non può fare a meno di peccare cioè è di fatto determinato verso il peccato è necessitato verso il peccato non può fare il bene quando c'è una situazione e c'è il bene c'è il male fosse solo per l'uomo farebbe sempre il male non potrebbe fare il bene e quindi non sarebbe libero in una situazione del genere in una situazione in cui l'uomo è fondato solo sulle sue forze tutti gli uomini di tutti gli universi paralleli ipotetici farebbero la stessa cosa secondo Agostino farebbero il male e quindi tutti uguali per Orici Agostino poi interviene la grazia divina e la grazia divina ci rende possibile il non peccare ci dà una libertà cioè ci rende possibile il fatto di scegliere se peccare o non peccare e anzi se fossimo veramente santi sceglieremo sempre di non peccare quindi anche di nuovo il libro orvito finirebbe allora per Agostino la libertà non è connaturata all'uomo perché dopo il peccato originale l'uomo non è libero è solo la grazia di Dio che rende liberi è solo la grazia di Dio che permette all'uomo di scegliere senza essere condizionato dalla propria peccaminosità capite? quindi è un discorso già particolare già nuovo già diverso se fosse solo per noi nei vari universi paralleli saremmo tutti uguali ma visto che c'è la grazia di Dio questa grazia ci dona la possibilità di vivere vite diversi in universi paralleli diversi ammesso che esistano questi universi paralleli terzo filosofo che vorrei citare ed è forse quello più interessante è Spinoza Baruch Spinoza in descrizione vi metto la playlist sulla sua filosofia Spinoza affronta proprio il tema del libero arbitrio è quello che forse più di tutti lo affronta prima degli altri perché lui dice contrariamente a quanto pensiamo il libero arbitrio non esiste Spinoza nega l'esistenza del libero arbitrio nel senso che attenzione però attenzione nel senso secondo lui non esiste la libertà da parte dell'uomo di desiderare delle cose libero arbitrio vuol dire letteralmente non solo libertà di scelta ma libertà di opzione cioè ci sono varie possibilità verso dove io sono inclinato ecco questa non è non c'è libertà secondo Spinoza non è nel nostro potere scegliere verso cosa inclinarci cioè ad esempio facciamo un esempio molto concreto se io devo scegliere se fare giornalista o fare il professore appunto a 20 anni 21 anni no che dico a 23 anni se devo fare questa scelta io avrò spontanea dentro di me secondo Spinoza una naturale inclinazione a fare una certa scelta cioè non avrò davvero liberamente la possibilità di dire voglio A voglio B voglio C voglio diventare giornalista voglio diventare professore voglio questa no il voglio non lo decido è una disposizione naturale è un meccanismo deterministico cioè la mia volontà non la controllo dice Spinoza il bambino fa questo celebre esempio il bambino crede di volere il latte ma in realtà non è lui che sceglie di volere il latte è la sua natura che lo spinge a volere il latte così io potrei credere di voler diventare insegnante ma in realtà non è non è la mia scelta non è il mio desiderio quello di voler diventare insegnante è la mia natura che mi spinge in quella direzione quindi non c'è libero arbitrio secondo Spinoza perché la natura di ogni uomo lo spinge verso una certa cosa però attenzione dice Spinoza spingere non vuol dire obbligare nel senso che non c'è libero arbitrio nel senso che non posso scegliere cosa desiderare il desiderio è spontaneo ma posso scegliere come gestire questo desiderio ecco quello sì lì posso agire quindi Spinoza dice nel caso dei vari manofarretti che devono scegliere se diventare professori o insegnanti il desiderio di diventare insegnante c'era per tutto in tutti gli ermanno ferretti di tutti gli universi paralleli ma io posso poi con la ragione intervenire sul mio desiderio posso moderarlo assecondarlo o rifiutarlo a seconda dei casi quindi cosa direbbe Spinoza in questo ipotetico multiverso direbbe nell'universo penso faccio un'ipotesi perché Spinoza non ha mai parlato del multiverso ma ragioniamoci probabilmente direbbe questo nell'universo A magari Ermanno Ferretti ha scelto di fare il professore perché sentiva il desiderio di fare il professore e ha deciso di assecondare questo suo desiderio quindi ha fatto effettivamente quella scelta nell'universo B magari invece sentiva anche lì il desiderio di fare il professore perché quello è meccanico non dipende dalla libera scelta però però sulla base dei consigli di certe persone sulla base della sua ragione che lo deve incerto magari ha scelto di rimandare la decisione quindi si è fatto un paio d'anni in più da giornalista e poi alla fine ha optato comunque per fare il professore però c'è arrivato due anni dopo capite magari nell'universo C invece Ermanno Ferretti dell'universo C ha scelto di non fare il professore perché diceva sì mi piacerebbe ma si guadagna poco c'è molto precariato chissà quando mai entreranno in ruolo tutti i motivi validi e ha deciso di continuare a fare il giornalista perché in quel momento aveva invece un lavoro da giornalista che gli piaceva non gli piaceva del tutto non gli piaceva forse meno di quello da insegnante però era un lavoro relativamente sicuro e quindi il Mano Ferretti dell'universo C ha perseguito la carriera da giornalista magari gli rimarrà sempre il rimpianto di non aver fatto l'insegnante come avrebbe a un certo punto voluto però ha fatto quella scelta e poi da lì in poi ha fatto una serie di altre scelte che l'hanno allontanato da quella che poteva essere un'opzione capite in questo caso il Mano Ferretti dei vari universi paralleli avrebbe desideri uguali in situazioni uguali perché la sua natura sarebbe sempre la stessa però asseconderebbe i desideri in maniera diversa e quindi verrebbero fuori strade diverse in fondo se avete visto tutto strange nel multiverso della follia io direi che la marvel propende per questa opzione non vi dico altro guardatevi il film però l'ipotesi non è così campati in aria tanti doppi che si assomigliano tra loro che hanno lo stesso carattere che hanno le stesse inclinazioni cioè che hanno la stessa parte pulsionale identica ma poi un diverso uso della ragione a bloccare o a secondare queste queste teorie questo è Spinoza che è estremamente moderno pur vivendo nel 600 filosofo che ancora oggi ha molto da insegnarci non a caso come vedremo tra poco i filosofi più recenti alcuni almeno si richiamano ancora Spinoza arriviamo un attimo velocemente perché ormai il video sta diventando lunghissimo alle riflessioni più recenti sul libero arbitrio perché mi interessa fare un po' il punto anche su alcuni temi di cui si discute ancora oggi intanto vi devo dire anche che tra 700 e 800 soprattutto nell'800 si è anche arrivato ad un certo punto a pensare che non ci fosse il libero arbitrio a dare non solo ragione a Spinoza ma addirittura a parlare di un comportamento puramente deterministico da parte dell'uomo in particolare la plassa è famoso per aver formulato una diciamo un manifesto quasi del determinismo per cui secondo la plassa una mente che avesse potuto elaborare tutti i dati dell'universo avrebbe potuto prevedere ogni azione anche le azioni dell'uomo perché anche le azioni dell'uomo come elemento naturale di questo mondo sono prevedibili il problema è che non conosciamo tutti i dati non conosciamo come lavora il nostro cervello e quindi crediamo di essere liberi ma in realtà sosteneva tra le righe la plassa se noi fossimo abbastanza intelligenti da elaborare tutti i dati che vengono elaborati dal nostro cervello inconsciamente potremmo prevedere ogni azione e quindi segno che non saremmo liberi saremmo come delle macchine che agiscono perché sono programmate ad agire in un certo modo ma questa posizione di la plassa viene quasi subito criticata Poincaré in particolare famoso proprio per parlare dell'effetto farfalla cioè in una critica verso questa visione deterministica già a fine 1800 Poincaré scrisse che in fondo basta una piccola perturbazione nell'ordine generale e l'effetto avalanga è clamoroso quindi difficile dire che sia deterministico tutto che si possa prevedere ogni evento perché ripeto i dati sono così perturbabili anche nel momento in cui li studio che il futuro è sempre imprevisto e imprevedibile e quindi non si può parlare di determinismo ma all'ilà di queste posizioni di scienziati poi che si interrogano sul libro arbitrio è interessante il dibattito attuale che è ancora molto aperto in descrizione vi metto ad esempio un bel libro che sto leggendo in queste settimane sul libro arbitrio un dialogo a due tra Daniel Dennett e Greg Caruso che sono due filosofi americani Dennett molto importante Caruso interessante anche lui che discutono proprio del libro arbitrio da due posizioni diverse cosa si dice? in generale nella filosofia contemporanea riguardo al libro arbitrio si dice che questo libro arbitrio è problematico perché ci sono delle evidenze scientifiche o comunque dei dati che sembrano suggerire che diciamola così il libro arbitrio sia abbastanza sopravvalutato nel senso c'è un famoso esperimento che viene citato un sacco di volte poi su come trarre conclusioni da questo esperimento se ne può discutere ma c'è un famoso esperimento di Benjamin Libet che era morto qualche anno fa un neuropsichiatra americano un neuroscienziato che studiava i meccanismi del cervello americano che fece un famoso esperimento in cui riuscì a provare che molto spesso almeno nel caso era una stimolazione del dito ma insomma riuscì a provare che la nostra reazione a certi eventi è sostanzialmente automatica o meglio che il nostro cervello fornisce una reazione allo stimolo prima ancora che noi ne abbiamo coscienza cioè dette in termini più concreti se io ti do uno stimolo tu devi decidere come reagire a questo stimolo se ci fosse il libro arbitrio tu valuteresti le varie possibili reazioni mettiamo che io ti offenda ti dica sei un imbecille allora tu davanti a uno che ti offende così se sei libero puoi valutare varie scelte potrei reagire dicendo ah grazie potrei reagire dicendo ah l'imbecille invece sei tu potrei reagire dando un pugno potrei reagire facendo finta di non aver sentito potrei reagire alzandomi e andandomene insomma tante scelte se sono libero valuto le scelte poi ne scelgo una ma se sono libero avrei potuto anche fare le altre questa è l'idea e quindi la mia scelta è libera nella misura in cui io ho un range diciamo prima di possibilità ebbene l'esperimento appunto di Libet sembra dimostrare sembra dimostrare che prima ancora che io mi renda conto delle opzioni il mio cervello abbia già deciso cosa fare cioè che la reazione sia un'attività sostanzialmente inconscia inconsapevole prima ancora che vengano attivati i centri del mio cervello in cui c'è la consapevolezza cioè in cui mi rendo conto di quello che sto per fare il mio cervello ha già deciso come agire senza che io ne avessi coscienza quindi sembra dire il strumento di Libet i nostri le nostre reazioni sono istintive sono meccaniche e quindi non sono libero perché se io non ho consapevolezza della possibilità di scelta se agisco perché ricevo un input e immediatamente il mio cervello dà un output ed è sempre quello perché è una macchina allora non c'è libertà io credo di essere libero ma non ce l'ho davvero questa libertà Libet diceva anche che c'è uno scarto di mezzo secondo direi mezzo secondo 500 millesimi di secondo tra il momento in cui il mio cervello decide di agire in un certo modo e il momento in cui me ne rendo conto di come sto per agire questo scarto tra l'altro dice Libet potrebbe permettere però l'intervento di un veto cioè mettiamo che io ti offendo e ti dica sei un imbecille allora il tuo cervello immediatamente spontaneamente sulla base di meccanismi direzioni biochimiche ha già deciso come reagire mettiamo che tu sei un tipo focoso che si arrabbia spesso perché ha una pressione sanguigna molto alta quindi è sempre in fibrillazione allora il cervello sapendo avendo questo grande afflusso di sostanze biochimiche reagisce con una scarica di adrenalina e io mi rendo conto solo dopo che sto reagendo con una scarica quindi sto per dare un pugno sostanzialmente allora nel momento in cui me ne rendo conto in qualche millesimo di secondo di ritardo ma me ne rendo conto prima ancora di aver poi agito cioè ho la scarica sto per agire ma in quel momento ho consapevolezza di quello che sto per fare allora in quel momento sembra dire l'esperimento di Libet io posso operare una censura un veto sul mio comportamento cioè non ho deciso io come reagire la decisione di come reagire è stata istintiva e spontanea irrazionale cioè prima della ragione ma a quel punto interviene una ragione che può dire no fermati ti rendi conto con un lieve ritardo di quello che stai per fare e però la tua coscienza può dire anche stop fermo non si fa quindi quindi sembra dire Libet sembra dire soprattutto Dennett che è un filosofo americano vi ho citato Daniel Dennett l'abbiamo citato anche nel video sull'intelligenza artificiale che vi linko in descrizione perché poi ci lega anche a questi temi Dennett sembra dire c'è un libro arbitro molto parziale cioè lui dice la reazione agli stimoli non è libera il nostro cervello agisce in molti settori come una macchina agisce dando ricevendo input e dando output meccanici però però la coscienza può intervenire sulla decisione del cervello può intervenire ad esempio con un blocco con un veto dicendo no non si fa e quindi rielabora cerca un'altra soluzione può fare questo quindi c'è una parziale libertà nel senso di una libertà negativa mi verrebbe da dire no? cioè la tua coscienza interviene non nella scelta ma nell'impedire una certa scelta ok quindi è una libertà limitata però c'è una libertà infatti Dennett sostiene nel libro che vi linko anche in descrizione che riguarda proprio il tema della responsabilità sostiene che gli uomini siano responsabili delle loro scelte chi non crede nel libero arbitrio pensa che gli uomini non siano responsabili perché se non c'è libero arbitrio se io non posso far altro che agire in quel modo non sono responsabili di quello che faccio in fondo un robot lo riterreste responsabile di quello che fa un computer ma no è stato programmato così quando io gli scrivo certi dati lui reagisce in quel modo perché non può far altro che reagire in quel modo quindi non è responsabile di quello che fa perché segue le sue regole allora se io davvero fossi come una macchina come un computer che riceve degli input e dà meccanicamente degli output non potrei essere responsabile di quello che faccio perché non dipenderebbe da me dipenderebbe dal mio linguaggio di programmazione dipenderebbe da come mi hanno creato non da me se invece è vero che c'è una componente di questo tipo una reazione meccanica ma io ho la capacità di bloccare questa reazione meccanica allora divento responsabile perché divento responsabile di lasciare che avvenga quello che sta per avvenire oppure di provare ad impedirlo e lì secondo Dennett c'è la differenza però capite che il problema è estremamente interessante cioè sono libero oppure no cioè c'è la possibilità di bloccare la mia reazione oppure no e il multiverso si può aiutare a pensare in questo in questo senso perché alla fine non è poi così diverso questa argomentazione da quella di Spinoza se ci pensate bene Spinoza cosa diceva che non si possono controllare dei desideri si può controllare come gestire questi desideri ecco Dennett dice qualcosa di simile in maniera più scientifica più forse anche limitante ma dice qualcosa del genere ci dice che i desideri le reazioni diciamo così sono meccaniche sono frutto del lavoro di una macchina di fatto ma c'è un certo margine di controllo su questi dati su queste reazioni e quindi c'è una nostra razionalità chiamiamola così o coscienza chiamiamola così non sa bene cosa che può intervenire a frenare però questa posizione guardate non è l'unica ce ne sono tante altre appunto Caruso nel libro che sto leggendo propone invece una tesi secondo cui l'uomo non è responsabile delle sue azioni perché è condizionato dalla storia condizionato dal modo in cui è stato educato condizionato dalle circostanze condizionato da una serie talmente alta di fattori che non è responsabile e il dibattito è aperto ci sono varie scuole di pensiero anche nella filosofia contemporanea e se ne discute probabilmente se ne discuterà ancora molto più le neuroscienze vanno avanti nelle analisi degli uomini più portano dati da commentare poi anche qui gli esperimenti vanno presi un po' con beneficio di inventario nel senso che lo stesso Libet era restio a trarre conclusioni troppo nette dal suo esperimento perché sembra dire una cosa ma si può anche criticare questo esperimento qualcuno l'ha anche criticato quindi è un campo ripeto apertissimo l'idea del multiverso dei mondi parallelici però ci dà una cornice narrativa a una riflessione sul tema immaginiamo che sia vero come si comporterebbero gli altri noi stessi in questi mondi avrebbero i nostri stessi desideri le nostre stesse pulsioni cioè davanti agli stimoli reagirebbero in maniera identica e magari solo si bloccherebbero porrebbero un veto alle loro azioni se ci pensate anche lì dottor strange ha qualcosa da insegnarci se avete visto il film se no vedetevelo e poi tornate qui a ripensare a quest'idea che vi ho buttato lì sul piatto ecco forse ci sarebbe moltissimo altro di cui parlare ci potrebbe parlare di Freud di Adler avevo pensato anche di fare un collegamento lì ma il video è già lungo così e non vorrei dare troppa carne al fuoco già questo basta e avanza per farvi un po' riflettere per provare a farvi delle domande a porvi delle domande ed è questo che serve la filosofia ed è anche a questo che a volte servono i film cioè per carità magari sono film di intrattenimento ripeto non pensati per farvi riflettere ma anche un film di intrattenimento anche un filmetto anche un romanzo se li si legge con lo sguardo giusto possono dare stimoli stimoli al pensiero stimoli alla riflessione stimoli alle domande che ognuno di noi nella vita prima o poi si deve porre quindi imparate a guardare anche i film anche quelli ripeto i supereroi perfino con lo sguardo della persona che si interroga non per forza del filosofo acclamato ma della persona che si interroga e secondo me potreste anche uscirne certo con la testa magari in confusione alla fine della pellicola ma magari anche con qualche motivo di crescita di esperienza nuova insomma imparate a conoscervi e a conoscerci anche tramite queste riflessioni basta ho finito vi ricordo che in descrizione trovate i titoletti che sono comparsi qui mentre parlavo trovate anche i link a tutti i video che ho citato ho citato vari filosofi vi metto il link sotto e trovate anche i link alle playlist principali ai social network alla newsletter settimanale dove vi ho detto ho parlato anche di alcuni di questi film quindi ci sono anche le puntate scorse se cliccate lì trovate le vecchie newsletter e lì potete leggervi anche quello che dicevo settimane fa o la settimana scorsa su Dr. Strange eccetera 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 in più sempre in descrizione trovate anche i modi se volete per sostenere il canale se vi piacciono questi video vi piace il lavoro che facciamo c'è un video al giorno tanta roba e volete esprimerci la vostra gratitudine lì c'è il modo potete comprare dei libri che sono sempre utilissimi e ci danno un piccolo aiuto economico potete comprare dei videocorsi anche quelli molto simpatici molto carini li faccio anche io ogni tanto qualcuno sono belli sono simpatici si imparano cose nuove e costano poco e poi ci sono anche i modi più classici il merchandising le donazioni c'è il pulsante super grazie c'è di tutto basta ho finito ci vediamo presto per altri video di storia filosofia educazione ci dica poi tanti altri argomenti ciao alla prossima ciao a tutti